Cioè, secondo me, su questo, nel senso, Marco fa la parte alta del funnel, la top of funnel si chiama, dei contenuti, e Big, il buon Lucone, dovrebbe imparare da Marco a farlo, questo è da dire. Luca, invece, sta parlando del bottom funnel, la conversion, è la parte bassa del funnel, quindi la differenza qual è? È che se tu fai solo la parte bassa del funnel, la parte alta del funnel devi investire balanghe di soldi in pubblicità, e poi comunque pure lui crea contenuti, quindi lo fa pure lui, e Marco è più bravo a creare contenuti. È chiaro che più tu sei, come dire, estremista, quindi più tu parli a un pubblico specifico, più sono piccoli i tuoi numeri, e su questo dice cose giuste. Cioè, nel senso, secondo me, sono valide tutte e due le cose, il punto sicuramente, Marco, con la scelta di posizionarsi ampio, che è una scelta, perché comunque per fare quello che dice Luca, tu devi anche rinunciare a una parte della tua reputazione. Dipende dal tono, dipende dalla comunicazione che scegli. No, per fare proprio quello che lui dice, cioè nel senso del... Ah, del vendere, vendere, vendere. Quello che lui fa, non quello che lui dice, poi non so quello che dice, quello che lui fa, comunque. E poi, quando dice che Marco sembra che ha paura a vendere, questa è una sensazione, perché giustamente dopo che tu parli broad per tutti, perché non hai un pubblico specifico, è chiaro che quando vai a vendere, soprattutto con la cultura italiana, perché se tu vedi l'America, e Marco, per esempio, mi ha colpito, ha intervistato pure Grant Cardone, che per me è una persona proprio da allarme rosso, che se ti vedi l'intervista di Marco con Grant Cardone, in inglese ha fatto, non mi ricordo, un po' di tempo fa, cioè Grant Cardone è uno che veramente è vendita su vendita su vendita, accusato di ogni tipo di cosa possibile immaginabile, super aggressiva. Quindi allora, se va bene Grant Cardone, perché non ti va bene Luca? Cioè, è la stessa cosa, solo che è americano quello lì, capito? E poi chiaramente fa molti più numeri, molto più grande. Guarda, poi ho visto che voleva intervenire Riccardo, ti faccio una domanda però. Questo pubblico che la comunicazione aggressiva va a prendere, secondo te funziona sui giovani? Diciamo 20-25? Funziona su tutti, perché è come siamo fatti noi. Cioè, pensa anche per i complottistici, sta chi dà del coglione agli altri e si prende il pubblico. Perché ho l'idea di avere qualche frustrazione dietro, però, per caderci bene. Il giovane forse ancora non ce l'ha. Aspetta, c'è da dire che tutti abbiamo frustrazioni e anche chi va contro i personaggi come lui, si porta dietro altri frustrati che vanno solo ad attaccare gli altri, perché tutta questa cosa dell'anticuru, dall'altra parte, è pericolosa quanto il guru, secondo me. Perché andare a dire che, cioè, uno può vendere, il fatto che è possibile che chiunque, che tu, che io, che Riccardo, che tutte le persone possano oggi vendere le proprie competenze in modo disintermediato, perché se tu ti vai a fare un corso su Udemy, come ha fatto pure Monti, lo racconta nell'ultimo video, cioè, chiunque si può vendere il suo corso, te lo puoi vendere da solo, te lo puoi vendere, è un bene per l'umanità, è un bene per l'umanità, perché l'umanità è andata avanti, si è evoluta, su le competenze trasmette da persona a persona. Poi, il fatto che siamo in un'economia del capitale, quindi uno guadagna per vendere le competenze, vuol dire che è ancora più incentivato a tirare fuori ancora più competenze e a diffondere il più possibile. Questo è come funziona, se tu te la prendi con Luca, allora te la devi prendere con tutti, perché tutti stanno a fare i soldi, cercano di fare i soldi. No, però io dico un'altra cosa, prima però voglio dare parola a Riccardo che sta per dire una cosa, poi prendo parola io. No, 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 figuratevi. No, allora, apprezzo molto la precisazione che ha fatto Luigi, perché, allora, contestualizzata come l'ha fatta lui, è vero che si rientrano entrambe le attività nel marketing digitale, perché effettivamente se tu la prendi in un contesto molto più grande e quindi analizzi che quello che fa Monti rientra nel digital marketing, perché è la parte più alta del funnel, quindi tu comunque cerchi di creare awareness, com'è che si pronunciava che l'avevi anche detto una volta? Awareness, awareness, sì, che lo chiamiamo, awareness, awareness. Esatto, quindi cerchi di fare awareness per poi magari cercare di portare il tuo utente più in là nel percorso, e allora siamo d'accordo. Quello che credo però sia un male ai fini della divulgazione in generale e dell'uso di alcuni termini per l'uomo della scala, che non per forza deve essere tecnico, altrimenti non si rivolgerebbe a tecnici professionisti, è che spesso e volentieri il marketing digitale viene scambiato per comunicazione e ti insegnano dall'università, è vero che magari non tutti sono d'accordo con i concetti che insegnano dall'università, però a me l'università hanno insegnato e sono moderatamente d'accordo che marketing e comunicazione sono due cose, non dico differenti, ma la comunicazione è una parte del marketing e non è una parte a sé stante, è una parte del marketing e io sono molto d'accordo con questo. Io ho una considerazione di natura diversa, è che Montemagno fa sembrare che veramente devi puntare, cioè per lui la community è tanti viewers, tante interazioni, like, share, condivisioni, secondo me invece bisogna far capire il potere delle nicchie oggi, io sono un fermo veramente, la cosa in cui credo di più è che con Riccardo ne parlo di continuo, io faccio Riccà, noi facciamo, ormai faccio queste cose a livello nazionale da tanto tempo, smesso di farle ma so ancora come si fanno, ok? Facciamola per il nostro territorio, cioè nessuno in Abruzzo, che è veramente il buco del culo del mondo e mi dissocio immediatamente da quello che ho detto, sa fare alcune cose di quelle che noi sappiamo fare, se noi prendiamo mille utenti in Abruzzo, quei mille utenti, come dice Big Luca, poi tu li puoi monetizzare, e quindi secondo me Montemagno non riesce a capire il valore delle nicchie, tant'è vero che lui non spinge mai su quelli che hanno mille follower, ma che c'hanno, quei mille guardano sempre quel video che vanno... Ma che bisogna dire, chi sono questi mille, Delli? Eh certo, deve essere... Magari attivisigono tutti i politici italiani che sono... Guarda il buon... Vabbè, ci sono tanti esempi che si possono fare su questo, però questo è il discorso fondamentale, è vero, cioè il problema pure che dicevi tu di dire devi fare video, views, eccetera, cioè a livello superficiale e io una volta ho fatto un video con i tre miti del business online e uno era fai un video al giorno, infatti forse sei un po' preso, perché non devi fare un video al giorno, cioè non devi fare... Nel senso, va bene, può funzionare, ma non serve che tu faccia un video, puoi fare anche un video e pubblicizzarlo e ti porta clienti, come avevo fatto io all'inizio. Certo. Quindi ecco, questo è il sacrosanto, e poi se sei specializzato su una nicchia, cioè se tu sei un professionista e ti parli in una nicchia specifica, anche se hai piccoli numeri, ma io penso che Marco lo sappia e lo dica pure nelle cose più avanzate, forse non arriva... Certo, il livello percettivo funziona di più di quando tu lui ti racconta questo fa milioni di views, PewDiePie, e ti spara sempre quello alto. Sui riferimenti, lui fa sempre riferimenti... Questa è una sua bravura, cioè lui, se vedi, fa sempre riferimenti top del top del top, Sì, sì, Federer, Natal... Cioè se tu parli di quello, ti posizioni in ogni caso. È chiaro che se no no. È un posizionamento a tutti gli effetti quello. Io volevo dirti Matteo Flora, faccio l'esempio perché è un amico che ho una stima immensa per Matteo, che conosci pure tu, immagino. Cioè lui per esempio ha dei video che magari se lo guardano duemila persone, ma in quelle duemila persone ci sono... Con i player del settore. Ci sono... Cioè, chi lo deve guardare, lo guarda quel video lì, capito? Poi lui magari ha l'ambizione di arrivare pure al pubblico e al grande pubblico, però ti devi montemagnizzare per arrivare. Quindi comunque devi abbassare, devi semplificare il messaggio, abbassare il livello della comunicazione. Sono d'accordissimo. Non puoi parlare come Matteo Flora e avere il pubblico di Montemagno. È impossibile. Anche perché Flora, che è dentro il gruppo dove siete anche voi due, eh, c'è anche lui, Flora secondo me ha una verba, un carisma pazzesco che ovviamente però per comunicare a quel pubblico deve... Non lo può far vedere totalmente perché già Flora quando si trova su Twitch che magari è ospite di un canale che sa che non sta parlando al suo pubblico si sbilancia tantissimo in come parla e lui ci avrebbe tutte le possibilità di arrivare a un grande pubblico ma sceglie di parlare a un pubblico giusto per lui. Però in live, se non sbaglio, in live o quando ne abbiamo parlato dal vivo lui mi diceva che vorrebbe o si stava preparando per arrivare al grande pubblico. Comunque alla fine è un'ambizione che abbiamo tutti quello di dire cazzo voglio parlare... Io al contrario ho fatto. Io ho parlato al grande pubblico. Mi interrompo un secondo perché mi è arrivato un messaggio da parte di un amico che non sapevo se stesse vedendo la live di Delli e non l'avevo avvertito anche perché mi ha sceglie ambientata e tutto il tempo di parlare e ha scritto il Cerbero Podcast del Digital. O del cazzeggio. Noi siamo forse più cazzoni. Beh, comunque diciamo che è una... Il Cerbero Podcast stava per il cazzeggio forse, stava per quella parola chiave lì. Sì, infatti, penso che fosse la giusta definizione. No, del Digital ci sta. Parliamo di Digital con la... Io lo prendo come un super complimento. Anche io, anch'io. Guarda, io anche ho interrotto apposta, infatti. Hai fatto bene, hai fatto bene. Un buon paragone. Tra parentesi, con Flora avevamo una mezza idea di fare un podcast insieme. Allora gli faccio, Flora, ma secondo me nemmeno ne io ne te abbiamo il tempo di fare una puntata al giorno. Lui mi fa, io la faccio già ogni giorno. Ah, scusa. Lui tutte le mattine ha già tutto il set pronto, prende, registra e pubblica subito. Fa la sigla, tutto quanto. Ma lo sai che sarebbe da fare? Un bel podcast in cui parliamo di tutto questo mondo qui. Live, facciamo qui su Twitch, ovviamente. Poi... Cazzeggio, sì. Cioè, tipo adesso stasera... Stasera ci sono comunque... Ho avvisato alle nove, no? Gianluigi, hai visto le storie che tu eri mio ospite alle nove. L'hai scoperto. Ho scoperto anch'io che ero ospito. Ma non solo, ragazzi, stasera c'è la finale di Supercoppa a Juventus. Ah, giù e Napoli. Una roba che ti porta via... Che io sto vedendo. Una roba che ti porta via 5 milioni di spettatori. Quindi, insomma... Quanto stanno? Quanto stanno? Non è più rilevante. 1-0 per la Juve. Ah, merda. Cioè, va bene. Minchè il migliore. Stasera abbiamo raggiunto anche 170 spettatori facendo una improvvisata così. Quindi vuol dire che forse... Sempre un po' di pubblico interessante... Vabbè, Gianluigi sarà abituatissimo però io che non ne parlo mai è anche nuovo per il mio pubblico quindi... Ma guarda, io credo che oggi... Io, Riccardo, non... Tu pure le comunichi video, YouTube, cose? No, ho fatto qualcosa sotto... Covid, ma stupidaggini. Ma stupidaggini per tenervi un po' in contatto per conoscere una persona e devo dire che mi ha anche aiutato nella mia attività professionale quindi mi ha portato un sacco di contatti anche proprio di business. Riccardo è formatore per talent... Riccardo, tu sei formatore talent garden cosa è così, mi pare. Sì, ogni tanto faccio il mentor perché sono stato uno dei loro studenti in un master con una borsa di studio per sei mesi e poi sono entrato un po' nell'ecosistema e ogni tanto vado a dare una mano in qualche attività che ci organizzano l'ultimo abbiamo fatta con poste italiane. No, no, ci divertiamo. Bello. Tra l'altro ho letto il commento di Gennaro Romagnoli che non so se lo conosci è psicologo numero uno esperto di meditazione e anche ipnosi io l'ho conosciuto al tempo quando... Meditazione mi ha sempre incuriosito. Io ho spiegato il podcast quindi lo prendo come un buon... Va bene, ci ragioneremo su e non lo faremo mai lo sappiamo già. Oddio, una puntata ogni mese... Oddio, se ci organizziamo... Non si sa. Lo vedremo? Io farei così. Mi vedremo un altro pezzetto di Big Luke e chiudiamo la chiacchierata. Vai, 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 vai. Va bene, facciamo così. Secondo me dopo più di un'ora e mezza la gente si sta annoiando. Scriveteci in chat. Se si annoiano comunque io ho dei gattini da far vedere i live. Ah, certo. Perché c'erano due che mi girano davanti e poi li tirano sempre, capito? Prendo un minuto a caso. Risco. Avessi le pagine sotto me ti potrei sottolineare le frasi, eccetera. Adesso con competenze c'è in qualche... Ma potrebbe essere la tua... Non hai detto perla nascosta ma la tua idea che ti fa svolta... È quello che è un tentativo di fare il guru e di far sogna però un po' reticente. Questa cosa assolutamente non piace. Quindi vai full in, vai full force. E poi, cosa diavolo vende? Io mi farei... Nel tuo caso è molto facile. Io ho dato questo consiglio in modo assolutamente informale a altre persone diciamo ad altri tuoi colleghi che sono percepiti e che sono in realtà... Cioè, tu di diritto per esempio in Italia o nel mercato in lingua Italia perché poi tu stai in Inghilterra e chi parla italiano può seguire i tuoi video. Tra l'altro hai fatto anche dei video in inglese. Io ho visto il tuo video, per esempio... Dice che non li guarda perché tu mi sei stato menzionato da uno. Infatti io, l'ho detto nel video di Ascanity io ho visto il tuo video con Tony Robbins. Dice, ma coglione, no? Bello. Ed è lì che parla in inglese quindi... E siccome... S'è perso. Ho detto, vabbè, questo qui è un po' nella crescita personale quindi sarà italiano ovviamente. Come direbbe Bononi. Sarà un po' Dice, ma io lo compro solo così. Sono andato sul sito e non vedi niente. Non c'è un corso a mille euro a cinquecento euro l'avevo anche preso perché ho detto fai le interviste, i video è un po' un Lewis House, no? Io ho un corso lo compro anche. Chi se ne frega che non l'ho comprato. C'è un corso a mille euro ma non vedi niente. E adesso hai in realtà fatto la membership a cinque. Questi sono tutti i tentativi, ragazzi. Perché piuttosto non puoi starci dentro. Infatti poi le chiudi e con questi progetti sono sempre le partecipazioni. È cattiva però, eh? Sì, questa è cattiva. Questa è cattiva. Poi le chiudi vuol dire che ci provi non ce la fai questa è molto cattiva. Comunque in realtà competenze che ho dato uno sguardo a questa cosa perché sta in ogni video di Monti e diciamo è la copia italiana di Masterclass.com Non è il tentativo di farlo. L'ha anche dichiarato se non sbaglio. Non lo so ma è evidente. È una roba molto simile il Masterclass. Sì, sì. Ci sta. Cioè nel senso mi sembra legittimo. Lui conosce tutti fa interviste con tutti è rispettato e quindi può far fare ma pensa c'era un certo periodo che insieme al buon Gaza Gazzarrini delle Iene stavamo organizzando una Masterclass italiana avevamo parlato con un po' di personaggi importanti dello spettacolo solo che poi non c'ho tempo perché sto lavorando su un'altra roba e quindi l'abbiamo l'ho dovuto mettere mettere da parte. Beh, anche perché Masterclass diciamocelo come lo batti Masterclass? Cioè No, vabbè italiano con eccellenze italiane cioè prendi A Masterclass gli bastere per mettere i sottotitoli d'Italia io ho comprato due Masterclass per regalo ad amici perché sanno inglese e non l'ho comprato per me perché non sono inglese. No, per io. Perché non ci sono i sottotitoli in italiano. Io ce l'ho e me lo guardo è molto bello. E' valido? E' valido? Allora è valido a me piace sempre io mi guardo tipo i video di interviste di persone che stimo su YouTube anche di ore i corsi della Stanford che mettono su YouTube Coursera quindi sono diciamo di nicchia la mia risposta può essere mi guardo tutto però è chiaro che non è come un Master di 30 ore perché sono 3-4 ore ok però comunque secondo me c'è sempre da imparare da quello che ti trasmettono poi alcuni io prendo l'Italio perché non mi piace alcune sono autocelebrazioni però comunque sai ti ascolti uno che cerca di raccontare il suo metodo non tutti poi sono che ti spiega leadership Aaron Sorkin che ti spiega sceneggiatura Martin Gladwell che ti spiega la scrittura Scorsese che ti insegna il cinema comunque ci sta alla fine poi ti dico quello che dicevi tu Delli è che non lo batti ma non è neanche un questione di battere perché non è che se c'è Masterclass allora non ne puoi fare uno in versione italiana che fatturerà un milione di volte di meno che comunque può dare le tue soddisfazioni però mentre in Masterclass vedo la scalabilità perché se li metti sotto titoli in tutte le lingue del mondo quelle sono persone e riferimento per tutte le lingue del mondo in italiano ok che mi metti no è di nicchia sicuramente di nicchia cioè ad esaurimento ok cioè la cosa figa di Masterclass è che ci sta pure quello lì che fa il barbecue che è uno dei più forti del mondo chi prendi qua in Italia che barbieri cioè c'è un limite secondo me anche perché non mi sembrano i top perché a me sembra che nessun italiano può essere il top cioè l'italiano ha questa percezione che nel suo paese il top è del passato non c'è nessuno al top adesso e non c'è nessuno al top c'è bottura in Italia c'è bottura in Italia che sta romito romito eh sì 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 c'è un asciolo ragazzi l'italiano l'italiano è spero di 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 cultura però è anche sinonimo di cultura essere esterofili perché vuol dire che tu sei aperto a tanti a tanti tipi di contaminazioni diverse ed è anche un retaggio culturale dato dal fatto che l'Europa è stata la culla di tantissime civiltà che si sono mischiate nei secoli dei secoli e quindi è normale essere più aperti a a idee a personaggi a suggestioni che vengono dall'esterno perché è una roba che abbiamo secondo me nel DNA gli americani invece sono molto autoreferenziali a volte anche diciamo a buon vedere perché producono tantissima roba di qualità ma anche perché secondo me non hanno la cultura di aprirsi così tanto all'esterno perché sono molto egoreferenziali nonostante sia una società che nasce da cioè una società finta la società americana non ha basi non ha storia ovviamente sono tutti europei o africani e certo o emigrati negli Stati Uniti dal 1500 in poi quindi insomma però è su questo che io volevo chiudere la conversazione proprio su questa cosa del vergognarsi dei soldi molto che gli americani non hanno io l'americano poi è vero che si crede il più grande del mondo una volta in un viaggio ho incontrato un americano una coppia americana stava qua in Italia e stavamo a Siena e faceva ah vabbè sì domani vado in Francia poi la sera vado a Madrid cioè loro si pensano che l'Europa è così cioè che che il tragitto da New York al Bronx cioè per loro si vedono veramente maestosi allora la cosa che mi ha colpito di più del discorso di Big Luke è quando lui dice Marco tu ti vergogni e non solo cioè loro hanno bisogno di spostarsi tanto perché nel mezzo hanno il nulla cioè loro se passi da un posto in Texas un posto in Nevada sono 14 giorni di macchina di chilometri di un cazzo di niente mentre cioè in Europa se fai 10 chilometri passi da una città medievale a una città rinascimentale di che stiamo a parlare sì 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 è una percezione diversissima che poi anche religiosa ce lo dicevamo io e Gianluigi l'altra sera quando abbiamo chiuso la live sul suo canale che è anche una questione della religione cristiana che ti fa vedere il successo il denaro come peccato mentre il protestantesimo lo fa vedere come obiettivo di vita quindi in America cioè se tu dici che hai fatto i soldi in America è una cosa positiva non è una cosa che devi vergognare Big Luke fa questo attacco a Montemagno cioè tu ti vergogni a chiedere i soldi questo è vero questo sembra anch'io ho avuto questa sensazione ma anch'io mi vergogno a chiedere i soldi io anche ragazzi facciamo un podcast a vergognarsi di chiedere i soldi lo sai che è una cosa però proprio effettivamente sbagliata cioè questa cosa qui è veramente una cosa sbagliata ma che culturalmente è così è pure per questo che poi magari Luca sta sul cazzo a molte persone non so chi però sicuramente può stare molto sul cazzo perché comunque questo atteggiamento